E' entrato nel pieno delle sue funzioni il baby sindaco della scuola mediaverga di Adano. Sabato mattina infatti nella palestra della scuola media danita ha avuto luogo la cerimonia di insediamento e di giuramento di Giuseppe Lamanna. Con lui hanno giurato anche i suoi assessori e i componenti del consiglio dei ragazzi in cui il presidente è stato eletto Giuseppe Birtolo. Da sottolineare la presenza del coordinatore dei baby sindaci della provincia di Catania Giuseppe Adernò, preside dell'Istituto Parini. Con lui ad Adano anche il baby sindaco dell'Istituto Parini Daniele Pennavadia, il primo baby sindaco di colore di Catania, per questo definito il piccolo Obama catanese. Il baby sindaco di Adano e quello di Catania hanno familiarizzato e si sono scampiate alcuni consigli. Giuseppe Lamanna, baby sindaco della Verga, finalmente con la fascia tricolore. Dunque adesso aumentano le responsabilità per te. Sì certo, ora farò tutto il possibile per mantenere le cose che ho scritto nel mio programma. Ecco questa mattina hai fatto amicizia con il baby sindaco della Parini di Catania. Sì, è un ragazzo molto simpatico. Avete parlato, non ci ha dato consigli, di cosa avete parlato? Ho mandato un po' di consigli su come agire. Sentiamo appunto Daniele Pennavadia, il baby sindaco della Parini di Catania. Insomma, si è parlato molto della tua elezione, è un momento importante, non solo per la scuola, vero? Sì, è un momento importante soprattutto per me, perché il Signore mi dona, ad avere queste elezioni, un'occasione anche per crescere personalmente. Hanno detto che sei il piccolo Obama di Catania, vero? Sì, perché sono stato il primo sindaco di colore ad essere che ho letto nella scuola Giuseppe Parini, per questo sobrannome. L'incontro di insediamento si è svolto in un clima di grande partecipazione alla presenza di genitori e alunni, del dirigente scolastico della Verga e degli assessori comunali Ancelo Cunzolo e Tina Di Primo. Presente anche il rispettore capo del commissariato di polizia di Adano, Salvatore Nicolosi. Io sono molto felice e direi anche emozionata, perché i ragazzi hanno interpretato questo momento con molta responsabilità e con molto senso civico, che era proprio quello che io desideravo. Per noi ogni volta che nasce un nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi è un giorno di festa, è un momento importante, e la diffusione di un progetto pensato per il bene dei ragazzi, pensato nell'ottica di una vera educazione civica, fatta, applicata. I nostri ragazzi imparano facendo e imparano, vorrebbero anche imparare vedendo fare. Abbiamo appreso da questa esperienza come la cultura della politica si insegna facendola, e i nostri ragazzi, nella spontaneità, nella genuvinità, ma anche nella saldezza dei valori, hanno capito che la politica è il bene comune. Ringrazio la presa di professoressa Battiato per averci invitato. Ritengo che la nostra presenza qui, in occasione di questa manifestazione, sia importante per far capire ai ragazzi che noi siamo vicini alla gente. Un applauso alla scuola Giovanni Verga e alla dottoressa Battiato, preside della scuola. È un esempio importante, un esempio di educazione civica che avvicina i ragazzi al mondo delle istituzioni. Con questo insediamento del baby sindaco, effettivamente si sancisce un momento molto importante. È quello che i giovani iniziano a prendere coscienza di che cosa vuol dire far politica, di che cosa significa assumersi delle responsabilità, di che cosa significa agire per conto e nell'interesse della comunità.